I costi della produzione sono rappresentati dagli esborsi che l'impresa deve sostenere per produrre un certo output. Quali che siano le logiche e nella particolar specie la massimizzazione del profitto e la minimizzazione dei costi si vedranno in seguito, prima è necessario dotarsi di una serie di concetti, di una serie di grandezze concettuali che aiutino nella comprensione di quelle che sono le determinanti del comportamento dell'impresa. In particolar modo questo paragrafo si occupa dell'esposizione dei costi totali, dei costi marginali, dei costi medi e quindi della distinzione della struttura dei costi tra il breve ed il lungo periodo. Si concluderà con l'introduzione del concetto di economia e di scala. In questo modo il lettore avrà la possibilità di padroneggiare le grandezze che evidentemente sono indispensabili per la comprensione corretta dei suddetti processi di minimizzazione dei costi, ovvero di massimizzazione dei profitti. La funzione di costo dell'impresa è una funzione che si basa espressamente sul quantitativo prodotto, pertanto a partire da una funzione di produzione che esprimiamo con Q, funzione di per esempio due input, si parlerà di funzione di costo come di quella funzione C che sarà una qualche funzione C di Q. Questa versione è appositamente approssimativa perché in effetti poggia su una, come dire, volontaria capacità omnicomprensiva al momento, però è necessario fare delle distinzioni. In effetti la distinzione basilare che principalmente tutta la manualistica dedicata alla microeconomia effettua fin da subito è la distinzione tra costi fissi e costi variabili. Vediamo di che si tratta. I costi fissi sono dei costi che l'impresa sostiene all'inizio della sua attività produttiva e che in effetti non cambiano. Questo significa che quando per esempio l'impresa debba acquistare un capannone o un macchinario questo acquisto è totalmente disgiunto dalla quantità che l'impresa deciderà poi di produrre. Allora parliamo di costo fisso proprio perché l'ammontare del costo sostenuto non è collegato alla quantità che l'impresa decide di produrre. Viceversa parleremo di costi variabili quando in effetti l'impresa sostiene dei costi in proporzione al quantitativo di output che essa decide di produrre ed in questo modo avremo ottenuto di poter scendere queste due grandi categorie di costi a seconda che essi non varino o varino fissi variabili sulla base della quantità prodotta. C'è poi una terza categoria e sono i costi quasi fissi. Essi sono dei costi che presentano la caratteristica di essere positivi e costanti se l'output prodotto è positivo ovvero nulli se la produzione non avviene. Un esempio per comprenderci è questo. Si immagini il caso in cui in effetti un'impresa abbia un autobus che serve per trasportare delle persone. Il costo dell'utilizzo della vettura è un costo evidentemente non fisso perché se l'autobus non esegue il trasporto esso non costerà ma nel momento in cui dovesse effettuare il trasporto in effetti sia una la persona trasportata o siano 20 o siano 50 nei limiti ovviamente della capacità dell'autobus il costo del pieno di benzina non cambia. Allora in questo modo si capisce che se la produzione è positiva ovvero le persone trasportate sono da 1 a 50 per esempio nel caso in cui questa sia la capienza dell'autobus l'impresa sosterrà il costo del pieno di benzina. Non cambia questo costo se il trasportato è 1 o tutti e 50. Cambia il fatto che se l'impresa non utilizza l'autobus il costo è 0 ma se lo utilizza il costo è quello del pieno di benzina. E allora riepilogando i costi fissi non dipendono dalla quantità prodotta, i costi variabili dipendono da Q e i costi quasi fissi hanno la caratteristica di essere positivi e costanti se Q è maggiore di 0. Va detto in effetti che la distinzione tra costi fissi, costi variabili e costi quasi fissi in verità discende dalla interpretazione, dall'inquadramento della differenza tra il breve periodo ed il lungo periodo. Si è detto in effetti che nel breve periodo si considerano variabili soltanto alcuni fattori, altri fattori della produzione si considerano costanti. Questo è in effetti esattamente il nocciolo della vicenda nella distinzione tra costi fissi e costi variabili, perché è evidente che nel breve periodo si considereranno fissi alcuni input e pertanto essi non varieranno al variare della quantità prodotta, i loro costi pertanto saranno costi fissi. Nel lungo periodo questa distinzione va in effetti rivista, perché nel lungo periodo l'impresa può decidere di modificare quella che chiamiamo struttura di impianto, quella che chiamiamo l'applicazione pratica della tecnologia applicata, cioè può decidere di modificare tutti quanti gli input variabili e quindi variando tutti gli input e trattandoli tutti come variabili, in effetti non esisterebbero più dei costi fissi, sarebbero tutti quanti variabili. Allora la distinzione tra breve e lungo periodo ci suggerisce di guardare la struttura dei costi in modo diverso e saremo più specifici tra poco.